E' intenzione del sindaco di Calatabiano Giuseppe Intelisano revocare l'ordinanza che ne visce l'accesso al percorso pedonale che porta al castello, a seguito dell'incendio che mercoledì scorso ha interessato il terrazzamento in zona Monte Castello, e che ha richiesto per diverse ore l'intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di lingua glossa e del corpo forestale. L'incendio ha danneggiato la parte elettrica dell'ascensore che porta al castello e la sala delle armi. Siamo in stretta collaborazione con la Curia, ha detto il primo cittadino calatabianese Intelisano, e sto bagliando l'idea di revocare l'ordinanza che vede l'accesso al castello, per permettere la prosecuzione delle manifestazioni estive sul nostro territorio e non creare disagio agli operatori, e garantire la piena fruizione del castello da parte dei turisti.